Ciao ragazzi e bentornati anche oggi su Unbox Italia. Prima di partire con questo super adattatore vi consiglio di iscrivervi a cosa? A Offerta Italia, il mio canale Telegram dove ci sono ogni giorno un sacco di offertone proveniente da Amazon e non solo. Dove anche mando le notifiche per non perdervi i miei video, perciò Offerta Italia su Telegram. Link in descrizione. Si parte subito con l'unboxing di questo adattatore USB di tipo C. E la miglior cosa che ho trovato a poco prezzo, nel senso che dal link che vi metto qua sotto potrete vedere quanto costa su Amazon, vi portate a casa un duplicatore di porte USB C. Perciò due porte USB di tipo A, due porte USB di tipo C. Sì, perché sul mio Mac Mini M1 avevo l'esigenza di cambiare adattatore, perché l'adattatore precedente era questo, che vi mostro qui. Questo qua di OK, che è un ottimo prodotto, è un multiporta, fa veramente un sacco di cose, ma per come ho gestito il mio Mac Mini, non ho bisogno di tutta questa roba, ma avevo bisogno di una porta USB di tipo C in più. Non me ne bastava una sola, ma ne volevo due, ok? Perciò non volevo semplicemente rimpiazzare quello che mi mangiavo, ma ne avrei voluta una in più. Così ho trovato questa soluzione qua, veramente economica rispetto agli hub, magari quelli alimentati, che la stessa Belkin propone. Abbiamo queste USB di tipo C, che appunto sono due, ma andiamolo a vedere. Allora, già qui abbiamo una panoramica di quello che troviamo al suo interno. Perciò il numero di porte, ok, le abbiamo viste, e poi c'è anche questo piccolo cavetto integrato, e questo ne va a premiare la portabilità. Questo sarà sicuramente utile per il mio Mac. Andiamo ad esplorare il contenuto della confezione, a vedere questo adattatore più da vicino. Belkin è da sempre sinonimo di qualità. Anche semplicemente questa scatola, vedete, con il magneto al suo interno, che permette una volta aperta di vederne il contenuto, non è da prendere per scontato. Sono piccole chicche che rendono migliore l'unboxing e anche la visione in negozio del prodotto che uno sta per acquistare, sapendo comunque che Belkin, appunto, fa sempre cose di qualità. Dunque, abbiamo questa pellicolina che adesso togliamo. Il prodotto è piccolo, lo vedete nella mia mano, quanto potrà mai essere grande. Andiamo a togliere questa pellicola, vediamo se riesco a capire dove inizia e dove finisce. Sono in difficoltà, ok, non volevo far disastri, ok, trovata. Da qua, andremo a togliere il tutto. Ha un po' effetto conico, piramidale, vediamo che si estende verso l'alto. Abbiamo un po' di scritte qua, andiamo a vederle. Abbiamo Belkin, disegnato in California, assemblato in Cina, un numero F4U090, USB Hub. E poi, ecco qua, il cavetto piccolino che viene fuori con una semplicità disarmante. Il logo Belkin, non solo qui, ma anche qua. E più di così non viene fuori, ok? Sto cercando di trovare le inquadrature giuste che vi permettano di vederlo nella sua interezza. E qui abbiamo le porte USB di tipo A e due porte USB di tipo C. Molto bene. E questo, secondo me, è venduto a un prezzaccio, perciò dateci un'occhiata dal link in descrizione. Diamo via quest'arma pericolosa. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcosa di migliore di questo Belkin, perché secondo me è veramente uno dei prodotti top, perché vi offre appunto le porte USB di tipo C e sfido a trovare qualcosa di simile, di qualità, che vi proponga almeno, almeno, almeno due. Io ne avrei preferite di più, però volendo posso aiutarmi con queste, ma almeno due porte USB di tipo C funzionanti su un adattatore così piccolo. Beh, se lo trovate, fatemelo sapere. Io ho trovato questo e ve lo posso assolutamente consigliare. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e ricordatevi di iscrivervi al canale, perché così mi aiutate a crescere e io posso portarvi sempre più contenuti. E noi ci vediamo, come sempre, qua su Unbox Italia. Ciao!